ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi vi faccio vedere qui questa nuova rivista del film tv questo nuovo numero cinema viene del cinema come ecologia mi regalo la rivista di la locandina di The Human Show con il Jim Carrey andiamo a vedere la rivista il film in sala iniziano le recensioni Lightyear la vera storia di Buzz in arrivo in sala dal 15 giugno film che troveremo a vedere The Other Side voto 5 questo non lo aspettavo più bello pauroso anche perchè hanno detto che ha terrorizzato il cinema svedese invece qua ha preso un tensione 1 e un ritmo 2 proprio bassissimo come il giorno più bello di luca e paolo ha preso voto 7 cioè ha preso più astro il giorno più bello di luca e paolo che è The Other Side il giorno più bello ha preso 2 di ritmo e 3 di humor andiamo a vedere poi grazie core del dominio eccolo qua ha preso voto 4 mamma mia è scarsissimo attenzione numero 7 1 2 3 proprio scarso ragazzi pirlo e qua c'è la locandina di The Three Women Show Jim Carrey live The Three One Show fantastica locandina bellissima questa anche da fare una bella cornice da prendere e qui ci stanno tutti i programmi tv con televisione fino a venerdì il 17 giugno e questo ragazzo era il 9 numero della rivista film tv mettetevi un piace, aumentate, iscrivetevi al canale noi con me siamo Pecci ci vediamo al prossimo video ciao a tutti belli